Ma l'ex difensore Brescia, Fiorentina e Inter non gode delle simpatie e tutti i dipendenti del mondo del calcio Gigi Cagni. L'allenatore a Dani al tempo Empoli. Non ha effettivamente risparmiato le critiche al suo ex giocatore che dichiara è uno che esagera. Il calcio è un'altra cosa. Dice la teoria. L'ho avuto come giocatore e non avevo tutta questa conoscenza del calcio. In realtà non era il proprietario nel mio Empoli. Cagni non risparmia a Dani parlando con i microfoni Riviera Oggi. Cagni ha continuato ad avere voce capitolo su Adani non so perché. Ma ora è diventato tutta la televisione. Tutti cercano essere un personaggio per se stesso, non pensare a ciò che il discorso isola calcio. Adani ha giocato nei ranghi Empoli per due stagioni. Nel 200607-200708 sotto la guida Gigi Cagni. Raccogliendo solo 22 presenze in totale senza mai entrare nel tabellone dei marcatori. In defense. Lucchini Pratoi. Con raggi. Vaniglia Dani stesso spesso solo panchina.